Oggi devo parlarvi di una cosa seria, una cosa seria, serial killer, serial killer, una cosa seria. Oggi devo parlarvi di una cosa seria, serial killer. Siamo in una testa, Endoni Rocca, Antonio Di Benedetto, la mia giornata, la mia giornata, invece non è vero. Perché non mi pagano, non prendo niente, tutto gratis, tutto gratis. Mi devono dare almeno 100.000 euro a video. Endoni Rocca, Antonio Di Benedetto, la mia giornata, almeno 2.000 euro a video. Cos'è, cos'è, seria. Cos'è, cos'è, seria. cosa seria cosa seria